Il movimento politico Scelgolocri con il suo capogruppo Enzo Carabetta in una nota esprime sconcerto, dicono per le allarmanti affermazioni rese dalla consigliera comunale ed ex assessore Anna Sofia durante la seduta del Consiglio Comunale del 24 luglio scorso. Dichiarazioni riportate poi dalla stessa sul suo profilo Facebook. Il movimento si legge atteso la rilevanza e la gravità di quanto espresso ritiene opportuno che la stessa consigliera che peraltro all'atto delle dichiarazioni rese partecipando ad una seduta consigliare rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale chiarisca all'autorità giudiziaria nel dettaglio ogni singolo aspetto dei singolari episodi che l'hanno turbata e anche la natura delle presunte incompatibilità che la riguardano e a suo dire riguarderebbero altri suoi colleghi di maggioranza. Fatti questi che risultano degni di approfondimento non solo politico ma anche giudiziario come le denunce di non meglio precisate pressioni che la consigliera Sofia avrebbe subito e che sarebbe stata perpetrata attraverso pizzini lasciati sulle scale del palazzo comunale e telefonate a suo dire calunniose finalizzati sempre secondo quanto narrato dalla stessa a farla dimettere da consigliera comunale. Scelgo Locri sottolinea che le dichiarazioni non possono passare inosservate e pertanto lo stesso gruppo ha trasmesso gli atti in prefettura. Scelgo Locri vuole inoltre un chiarimento sulle assenze tattiche che qualche componente dell'aggiunta secondo quanto sempre dichiarato da Anna Sofia avrebbe effettuato in occasioni di riunioni convocate per discutere di provvedimenti in materia di ripristino della legalità. La nota si chiude sottolineando che il quadro è preoccupante e anche per questo il movimento politico che si batte ad opera al fine di contrastare qualsiasi forma di violenza, minaccia, illegalità, ritiene anche a tutela della sicurezza della stessa consigliera comunale denunciante che i fatti siano approfonditi dagli organi preposti e dal Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica. Ciao!